Amici di calciomercato.com, siamo qui al centro di Milano, all'esterno del Palazzo Parigi, il quartiere generale della Juventus, in attesa di Marotta c'è già Paratici, la Juve che trama le fila di questo calciomercato. Nelle prossime ore è previsto un incontro con Mino Raiola, un Mino Raiola che prima di vedere il Milan incontrerà la Juventus per parlare di Jose Can, millennial bianconero, la Juve che studia la strategia per il futuro del centro avanti italiano, pronto il rinnovo di contratto, si parlerà ovviamente di quella che sarà la strategia per il futuro. Quindi qui, un pieno via vai al centro di Milano, seguiremo e continueremo a parlare della Juventus, ovviamente per gli aggiornamenti del caso, sempre su calciomercato.com Da qui è tutto, a dopo!